Hanno ucciso un uomo ragno, non si sa che... ...in cui il celebre gruppo suonò su una chiatta galleggiante di fronte a Piazza San Marco. Una soluzione però, quella prospettata anche per Piazza Unità, avversata dagli organizzatori degli eventi... ...per questioni collegate alle misure di sicurezza straordinarie che servirebbero a garantire pubblico, gruppo e staff. Ed ecco allora l'ipotesi che al momento è in pole position, dopo giorni di riflessioni del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza... ...una ristrutturazione dello stadio Grezzar. Il progetto, che godrebbe già del supporto finanziario della regione, prevede l'apertura della tribuna scoperta del Grezzar... ...al momento mai utilizzata, mentre quella coperta ospita il pubblico per gli eventi di atletica... ...piu l'installazione di due ulteriori tribune temporanee in tubi innocenti per intendersi, in corrispondenza delle due curve. Il tutto, ha spiegato il primo cittadino, porterebbe la capienza a complessivi 10.000 posti a sedere. Una condizione più favorevole che consentirebbe anche di ospitare ulteriori grandi concerti. Uno in particolare, i beni informati, parlano di Renato Zero come terzo colpo dell'estate 2024. Io come un gentiluomo e tu come... Dio come un bene Grazie a tutti.